Facciamo una rapida carrellata di caratteristiche che possiamo allenare quantomeno con i sistemi più caratteristici dell'allenamento funzionale, quindi dal corpo libero, sistema primitive functional movement che non è solo orientato alla mobilità articolare. Noi quando eseguiamo esercizi del primitive andiamo sì a migliorare la mobilità articolare dei due fulcri motori primari del movimento del corpo umano, le anche per quanto riguarda gli arti inferiori, cingolo scapolo merale per quanto riguarda gli arti superiori, ma questa mobilità articolare viene sempre associata alla stabilizzazione articolare, quindi quando vado ad esempio ad eseguire un child squat oppure facciamo un esempio di un esercizio che è presente qua. Io eseguo lo shinbox, lavoro sulla mobilità articolare dell'anca, sulla catena laterale, ma anche sulla catena anteriore crociato, ma nel contempo vado a stabilizzare la spalla. Il corpo è collegato, ci sono delle catene miofasciali, ci sono i gruppi funzionali che interagiscono tra di loro, ci sono delle attivazioni di coordinazione intermuscolare e di conseguenza sia quando andiamo a eseguire esercizi per lo sviluppo di capacità condizionali, forza, resistenza, velocità e potenza, ma anche per quando eseguiamo esercizi di mobilità articolare, non dobbiamo dimenticare che il corpo si muove in maniera globale, ci sono dei collegamenti, quindi è inutile andare a fare un esercizio di mobilità articolare settoriale di un'area del corpo senza poi coinvolgere le altre aree del corpo o in termini di mobilità o in termini di stabilità. Ok? Se io faccio questo esercizio qua, lipflexor, ok lavoro sulla catena anteriore dell'anca a livello della gamba che è posteriore, quindi in questo caso qua, gamba sinistra all'indietro, vado a lavorare sulla catena anteriore, in particolare il retto del femore, iliopsoz, ma questo è un lavoro anche per la caviglia della gamba avanzata, la destra, ok? Stessa cosa se parliamo del child squat, lavoriamo sì sulla mobilità articolare dell'anca, ma facciamo mobilità articolare della caviglia assieme all'anca e mentre facciamo mobilità articolare dell'anca e della caviglia stabilizziamo le spalle e quindi stabilizziamo la parte superiore e quindi stabilizziamo di riflesso anche la colonna vertebrale, ok? Perché ci sono dei collegamenti strutturali da rispettare. Quindi la mobilità articolare che intendiamo allenare con l'allenamento funzionale è una mobilità articolare associata alla stabilizzazione articolare, ma anche alla coordinazione. coordinare significa saper gestire più parti del corpo mentre si eseguono i movimenti, ok? Quindi sto eseguendo ad esempio un esercizio come leg switch down che è un lavoro per il corpo, sì sta lavorando il corpo, ma sto stabilizzando anche la spalla. Questo significa utilizzare il corpo libero negli esercizi di mobilità articolare funzionale. Funzionale significa globale multiplanare e soprattutto dinamica. Questa mobilità sta, la mobilità statica, lo stretching statico non può avere gli stessi risultati della mobilità dinamica. Perché? Perché il controllo del movimento deve essere allenato mentre tu ti muovi. Non è che ti devi muovere a caso, non è che esegui traiettorie di movimento, di mobilità senza controllo della sede fisiologica di quell'articolazione. Se tu vuoi assicurare mobilità articolare, stabilità articolare insieme in ogni movimento, devi saper controllare le traiettorie di movimento di quell'articolazione. Ecco che ci sono capacità propriettive, capacità coordinative, associate alla mobilità articolare. Ci devono essere. Per cui quando parliamo di mobilità articolare utile, funzionale, significa che deve essere dinamica, globale, quindi non settoriale e multiplanare. Quindi quell'articolazione, in base a quella che è la fisiologia articolare, la sua struttura, come è fatta l'articolazione, come si articolano i capi articolari, ok? I due segmenti ossei, come sono stabilizzate con i legamenti, come è fatta la capsula articolare, come sono fatti, come sono inseriti i muscoli che passano su quell'articolazione. In base a tutte queste caratteristiche noi sappiamo che poi quell'articolazione si può muovere e quindi si deve muovere più sul piano sagittale, magari durante un movimento sul piano sagittale c'è anche una rotazione, quindi c'è anche il piano trasverso, ok? Per cui non mi basterà ad esempio allenare l'anca solo in estensione e in flessione, ma devo fare anche intra e extra rotazione, devo fare anche adduzione e abduzione, perché sono movimenti che fisiologicamente quell'articolazione può fare e quindi se lo può fare fisiologicamente per la sua struttura, lo deve fare anche biomeccanicamente durante il movimento. Lo deve fare vuol dire che lo dovete allenare, dovete consentire all'atleta di recuperare tutto il range completo di movimento in tutti i piani di quell'articolazione, se l'articolazione era rigida, oppure se l'articolazione era ipermobile, durante questa esecuzione di movimenti deve essere capace di controllare le traiettorie in maniera da stabilizzare l'articolazione nella sua sede, perché un'articolazione che è ipermobile, chiaramente è un'articolazione che predispone un infortunio durante i movimenti ad alta intensità in gara di un atleta, perché verranno stressate le componenti della capsula, le componenti delle legamentose, dell'articolazione, proprio perché è un'articolazione fuori controllo, ok? Quindi quando parliamo di mobilità articolare significa utilizzare in maniera intelligente la mobilità articolare ai fini di prevenire gli infortuni, ma anche per migliorare la resa atletica, perché un'atleta che è instabile a livello articolare è un'atleta debole, che sperpera forza durante l'esecuzione di movimenti, quindi diventa meno forte. E se l'atleta è meno forte è anche meno veloce, è meno esplosivo, è meno reattivo, ok? Se l'atleta non è coordinato, non è proprio cittivo, non è reattivo. L'atleta deve essere per forza reattivo, perché tutte le competizioni sono eseguite ad altissima intensità. L'intensità necessita di reattività, altrimenti l'atleta arriva in ritardo rispetto all'avversario, ok? Oramai gli sport non sono più come 50 anni fa. La componente fisica atletica è molto dominante negli sport moderni, in tutti gli sport. E quindi succede spesso che l'atleta che magari tecnicamente è più bravo, soccombe rispetto all'atleta fisicamente più preparato. Ma fisicamente più preparato non significa che è solo più resistente o più veloce, ma che è anche più reattivo. Quindi riesce a eseguire i movimenti ad alta intensità meglio dell'avversario, ok? Quindi qua vedete agilità, reattività. L'agilità la possiamo raggiungere se tu hai mobilità articolare. Se tu sei rigido non puoi essere agile, ok? Reattività la possiamo avere se tu sei proprio cittivo e controlli le traiettorie di movimento. E c'hai un sistema nervoso che funziona alla perfezione. Parliamo di sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, sia nell'esecuzione dei movimenti che nella componente propositiva, quindi nell'inviare i feedback in tempo reale durante i movimenti al sistema nervoso centrale, che sarà sempre lui che poi deve riadattare i movimenti, al fine di raggiungere lo scopo prefissato. Quindi eseguire quel movimento esattamente come aveva in testa di farlo, ok? Poi chiaramente il primitiv non è solo mobilità articolare. Alcuni esercizi sono di mobilità articolare, altri sono di condizionamento fisico generale, quindi parliamo di forza e resistenza generale. Chiaramente non parliamo di forza massimale. Per cui per allenare la forza massimale utilizzeremo, se proprio vogliamo utilizzare il corpo libero, utilizzeremo ad esempio il calisthenics, oppure se abbiamo a disposizione il bilanciere, utilizzeremo esercizi col bilanciere. Chiaramente più strumenti avete, meglio riuscite a strutturare i programmi di allenamento. E quando parliamo di mobilità articolare, core training, stabilità, coordinazione, è esattamente tutto il lavoro che va fatto anche in fase di recupero post-infortunio di un atleta. Caratteristiche del calisthenics, sicuramente il cuore del calisthenics è la forza massimale o sub-massimale. Le skill vere e proprie del calisthenics sono tutte skill di forza massimale, il controllo massimo del corpo durante l'espressione massima di forza, ok? Poi è chiaro che tutto è calisthenics, se io faccio un push-up è calisthenics, se faccio un push-up, push-up plyometrico, se faccio degli affondi plyometrici, è tutto calisthenics. Tutti gli esercizi a corpo libero eseguiti o a terra di forza, o con l'utilizzo di supporti esterni, che possano essere delle parallele, sbarre, spalliere, eccetera, tutto è finalizzato all'utilizzo del corpo libero per l'espressione della forza massimale e sub-massimale. Però chiaramente le skill più complesse sono determinate posizioni che prevedono l'utilizzo del corpo intero, quindi non solo di parti del corpo, solo una parte del peso corporeo, tutto il peso corporeo, in base alle posizioni che vogliamo eseguire, con determinate attivazioni muscolari che vogliamo conseguire con quelle posizioni. Qual è il limite del calisthenics? Che per gli arti inferiori, per le anche, ci sono pochissimi esercizi rispetto a quelli che invece sono per il cingolo superiore. Quindi chiaramente se voi scegliete di utilizzare il calisthenics per il vostro atleta, per il condizionamento della forza massimale, dovete poi integrare lavori col bilanciere, ad esempio, o con kettlebell pesanti per quanto riguarda gli arti inferiori. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!